È una bellissima giornata per Roma e per l'Italia, cominciano gli europei, si avvicina un'estate economicamente fondamentale, i dati sanitari sono positivi, ormai quasi tutta Italia è in zona bianca, si lavora chiuso all'aperto di giorno e di notte, presentiamo la voglia di cambiamento per restituire orgoglio, dignità e efficienza a Roma, quindi non potrebbe essere un venerdì migliore. Il rammarico ovviamente e il pensiero va a Camilla e a coloro che hanno pensato di usare bimbi e ragazzi come laboratori e spero che si fermi in questa folle corsa, che i fragili e chi ha bisogno venga curato e tutelato, ma coloro che hanno più rischi che benefici vengano fermati e messi in sicurezza.